Insomma ragazzi cosa vi devo dire? Grossi problemi tecnici! Vabbè, moriremo di tecnologia. Allora, abbiamo detto quadra... finisco, basta perché è questo punto. Allora, quadrato del primo termine, quindi quadrato di questo termine qua, vedete? Questo qua. E quadrato del secondo termine, meno quadrato del secondo termine. Allora, quadrato del primo termine, 16 quadrato di 4, 16 quadrato di 9, 81. Il quadrato di x alla sesta sarebbe x alla sesta al quadrato, vi ricordo che è x alla 6 per 2, x alla dodicesima, y alla sesta, meno il quadrato dal secondo termine, 25 quarantanovesimi, x alla quarta, y all'ottana. E con questo diciamo che abbiamo fatto praticamente tutto quello che ci serve. E scusate ancora per i problemi tecnici.